Ho deciso di chiudere qui il daily vlog perché credo sia sufficiente così Credo di aver imparato quello che volevo imparare da questa esperienza E' arrivato il momento di raccontarvi nuove storie Questo ragazzo è molto divertente No, parlavo di te Oh, non lo so E sono delle impressioni veramente incredibili là dentro che nel corso del tempo vi presentino Siamo felici che il vlog è tornato? Sì? Oh no, sto lavorando No, sto lavorando No, sto lavorando